In questo video voglio parlarvi del mondo dell'affiliate marketing e di come poterlo sfruttare per guadagnare molti soldi. Prima di cominciare ti consiglio di iscriverti al canale se sei interessato a video sulla crescita e finanza personale in modo da non perderti i prossimi video. Non voglio farvi perdere tempo quindi iniziamo subito. Prima di tutto bisogna capire a fondo cosa sia l'affiliate marketing. L'affiliate marketing è un modo per sponsorizzare prodotti attraverso l'utilizzo di link affiliati. Vi faccio un esempio banale. Sicuramente avrete visto alcuni video di youtuber che fanno recensioni di vari prodotti e lasciano nelle loro descrizioni dei link per poterli andare ad acquistare su amazon per esempio. Bene sicuramente non lo fanno solamente per agevolarvi nella ricerca del prodotto che vi consigliano ed infatti guadagnano una piccola percentuale su chiunque acquisti qualcosa passando per quel link affiliato. Il prezzo per il cliente finale non cambierà ed è quindi un ottimo modo per i creator per costruire un'entrata passiva. Infatti seppur le percentuali ricavate siano relativamente basse se un numero ingente di persone acquista tramite il link affiliato si possono creare ricavi molto interessanti. Per poter sfruttare al meglio l'affiliate marketing non bisogna per forza essere degli youtuber. È sufficiente avere un social che sia in grado di raggiungere delle persone. Più persone vedranno il vostro link affiliato e più probabilità avrete di poter guadagnare. Ovviamente la cosa più importante è quella di non pubblicizzare oggetti inutili o di bassa qualità altrimenti nel lungo periodo perderete di credibilità e nessuno cliccherà più sui vostri link. Oltre questo però potete spaziare da un prodotto ad un altro indistintamente. L'iscrizione a questi tipi di programma è solitamente molto semplice e uno dei più grandi è sicuramente quello di Amazon. Il modo migliore per poter sfruttare questo tipo di affiliazioni per guadagnare molti soldi è quello di creare dei blog o dei canali youtube che puntano esclusivamente a mostrare oggetti all'interno dei video oppure utilizzando TikTok. Su TikTok esistono molti account che vengono utilizzati esclusivamente per la pubblicizzazione di oggetti e in molti casi se i prodotti mostrati si rivelano interessanti o divertenti vengono visti da moltissime persone. Magari avrete visto dei TikTok con milioni e milioni di visualizzazioni che mostrano dei gadget simpatici o utili. Ebbene probabilmente nei commenti di quel TikTok il creator avrà posizionato un link da dove poter acquistare quel prodotto. Per poter fare una cosa simile non avrete bisogno di creare video lunghi e dettagliati in cui spiegate per filo per segno come funziona un prodotto o come è fatto ma vi basterà creare dei video in cui li utilizzate e per di più non avrete nemmeno bisogno di mostrare il vostro volto in caso non lo vogliate. Una volta creato il video e averlo pubblicato con il link affiliato quest'ultimo diventerà un vero e proprio asset che vi farà guadagnare in modo passivo e potenzialmente per sempre. Quindi potete capire che creare più video di questo genere su molti prodotti diversi potrebbe farvi guadagnare moltissimi soldi. Creare un TikTok virale non è così complesso come per i video di YouTube o i post di Instagram, quindi avrete maggiori probabilità di raggiungere grandi bacini di persone in modo più semplice ed è per questo motivo che, almeno che non abbiate già una community importante su qualche social, vi consiglio di iniziare su TikTok. Spero che il video possa esservi stato utile e fatemi sapere se proverete a sfruttare l'affiliate marketing qui sotto nei commenti. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.